che in un terreno diciamo di proprietà della mia famiglia si facesse sesso ne aveva avuto informazione qualche tempo fa e deve essere una cosa che ha ricominciato a prendere piede vista la presenza di tovaglie tovaglioli e fazzoletti vari questa mattina d'altra parte oggi è domenica 25 marzo 2012 e ieri era sabato e qualcuno aveva pensato bene di festeggiare devo organizzarmi con qualche telecamera a raggi infrarossi magari sistemata in qualcuno di questi alberi di ulivi magari per beccare i fedigrafi o le coppie di fidanzate amanti guardate quanti tovaglioli ci sono in campagna fate quello che cazzo volete ma almeno abbiate la compiacenza di non di non sporcare c'è anche un paio di mutande si vede che insomma la persona aveva molto da dare e niente volevo farvi notare la presenza di tutti questi tovaglioli un pacchetto di sigarette chi fuma camel se qualcuno avrà di questi ha l'occasione di vedere questo video si regoli di conseguenza magari di sabato sera verrò a farmi un giro e bloccherò perché l'uscita è quella mi metto davanti la strada e poi dovrà risponderne questi sono proprio freschi si vede che ieri sera qualcuno si è dato molto molto da fare dalle campagne di scandale è tutto con anzi no continuiamo un attimino guardate che bel che bei prati fioriti da non non è brutto però è anche perché l'amore è una cosa bella però guardate che belli invece questi questi galletti questi fiori tanti colori che poi ci sono tra i galletti in questa natura molto molto verde siamo in piena in piena inizio primavera ma la natura si sta risvegliando alla grande e questi tovaglioli buttati qui in campagna in una campagna che non è non è di chi fa queste cose non le definisco porcherie perché ripeto sempre bello far l'amore però fatelo in modo pulito anche per la mia per la mia proprietà va bene va bene va bene a